Le autorità kurde del nord-est della Siria hanno consegnato 34 bambini, orfani, di età compresa tra i 3 e i 14 anni, i cui genitori erano sospettati di appartenere allo Stato Islamico, ad una delegazione russa guidata dalla Garante Nazionale per i Diritti dei Minorenni, che si occuperà di loro. Finora Mosca si è fatta carico di 169 minori provenienti dalla Siria, ed altri gruppi di bambini è previsto che debbano seguire lo stesso percorso. Abdul Karim Omar, funzionario kurdo degli affari esteri, ha lanciato un appello alla comunità internazionale, affinché ogni paese da cui sono arrivati i combattenti si dimostri responsabile e si faccia carico del destino dei più piccoli. Questi bambini sono le vittime, non certo responsabili di nulla. Ci sono paesi che debbono assumersi le proprie responsabilità nei loro confronti. I kurdi siriani hanno ripetutamente invitato la comunità internazionale a rimpatriare i cittadini stranieri detenuti negli affollati campi del nord-est della Siria. Ma gli appelli sono in gran parte caduti nel vuoto, con solo un numero limitato di persone, per lo più bambini, a cui è stato permesso di tornare a casa finora. In passato la Russia ha portato in patria diverse decine di bambini che erano stati abbandonati in Iraq dopo il crollo del califato, che aveva la sua ultima roccaforte nell'area di Mosul.